Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, code in uscita a Pistoia, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1 in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori, un chilometro di coda in entrambe le direzioni tra Carrara e Massa. Sulla Fipili per traffico intenso in direzione Firenze, code a tratti tra Lastra e Firenze Scandicci. Sulla A1 fare attenzione per vento forte, segnalato sul tratto appenninico tra Aglio e Rioveggio. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza di Castelnuovo Berardenga, chiuso in entrate e uscita allo svincolo di Colonna del Grillo in direzione Siena. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.